Pranayama, antico termine sanscrito composto dalla parola prana, energia, soffio vitale, vento e ayama, controllo, dinamica, espansione. È uno degli anga, cioè delle parti, della disciplina dello yoga. È l'aspetto sottile, in sanscrito suksmakriya. Le tecniche di respirazione sviluppano un respiro corretto attraverso l'allenamento dei muscoli dell'inspirazione. Un respiro corretto previene contratture dolorose e invalidanti e produce movimenti consapevoli. Movimenti consapevoli generano armonia. L'armonia è la porta che conduce alla pace. La pace è il punto di partenza per la contemplazione e la meditazione. La pace è il punto di partenza per la contemplazione. Grazie.